Bentornato, professor Einstein. Che piacere averla di nuovo qui con noi. Salve a tutti. Ma quanta gente avete intervistato? Non faccio altro che incontrare colleghi che sono stati ospiti qui da voi. E noi abbiamo ricevuto moltissime mail e post che la riguardano. Moltissime cosa? Lettere. Volevo dire lettere, professore. Ma andiamo avanti. Abbiamo parlato dei suoi lavori del 1905. Che successe poi? Beh, nel 1906 pubblicai un lavoro sulla capacità termica dei solidi, approssimandoli a un insieme di oscillatori quantistici. Un modello che ora si chiama solido di Einstein. E poi, nel 1907, ebbi l'illuminazione che considero il momento più importante della mia carriera. Il principio di equivalenza. Ce la puoi illustrare in due parole? Ah, è molto semplice. Ho esplorato le conseguenze di una evidenza sperimentale, così come ho fatto con la luce. Allora, con la luce considerai il fatto che la costanza della sua velocità, presa come principio, porta alla relatività ristretta. E così, l'evidenza che tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione, porta alla relatività generale. Forse c'è bisogno di qualche parola in più. Allora, vediamo se mi posso spiegare in maniera più semplice. I corpi si attraggono gravitazionalmente in maniera simile a come delle cariche di segno opposto si attraggono elettricamente. L'equivalente della carica elettrica è la massa gravitazionale. Se adesso lascio liberi i due corpi caricate elettricamente, questi accelerano l'uno verso l'altro. La loro accelerazione è proporzionale alla forza con cui si attraggono, ovvero alla loro carica, ma è inversamente proporzionale alla loro massa inerziale. Nel caso appunto delle cariche elettriche può succedere che un corpo di grande massa inerziale abbia una piccola carica elettrica, o viceversa che un corpo di piccola massa inerziale abbia una grande carica. E quindi i corpi carichi non accelerano tutti con la stessa accelerazione. Esatto. L'uguaglianza delle accelerazioni, sia solo se la carica con cui si attraggono, è proporzionale alla massa inerziale, ovvero alla difficoltà di metterle in accelerazione. E dato che la carica gravitazionale è la massa gravitazionale, ecco che l'uguaglianza delle accelerazioni porta all'uguaglianza della massa inerziale con la massa gravitazionale. E fin qui è chiaro. Poi? Allora, questa uguaglianza, che è sperimentalmente verificata, è sempre stata considerata una coincidenza. Ma, mi dissi, e se fosse invece un principio della natura? Che conseguenze potrebbe avere? E che conseguenze ha? Che non è possibile distinguere, attraverso esperienze locali, tra gli effetti di una forza gravitazionale e quelli di una forza inerziale. Faccio degli esempi? Beh, sì, forse è meglio. Allora, per prima cosa, facciamo l'esperimento mentale dell'ascensore, anche se oggi penso che sia meglio pensare ad un razzo. Abbiamo due razzi, uno che sta accelerando nello spazio e uno fermo sulla superficie di un pianeta. E facciamo in modo che l'accelerazione del primo sia uguale all'accelerazione di gravità del secondo. A questo punto lasciamo entrare un raggio di luce da una piccola apertura. Che cosa succede? Allora, la luce viaggia a velocità costante, ma la velocità del razzo che sta accelerando cambia e aumenta. Quindi il raggio di luce viene visto curvare verso il basso dagli astronauti. Ma dato che per i principi di equivalenza non si può distinguere questo caso dal caso del razzo fermo sulla superficie del pianeta, ecco che, come conclusione, il campo gravitazionale devia anche la luce, anche se questa non ha massa. Bello! E poi? Beh, adesso immaginiamoci di essere su una giostra in rapida rotazione. Sicuramente sentiamo una forza centrifuga. Inoltre, dato che stiamo viaggiando a grande velocità, per la feria della relatività ristretta, che l'abbiamo visto la volta scorsa, le nostre dimensioni diminuiscono, certo, nella direzione del moto, e gli orologi rallentano. Allora, perché, dato che non posso distinguere questo caso da un caso in cui, invece della forza centrifuga, ho una forza gravitazionale, ecco che concludo che i campi gravitazionali rallentano gli orologi. Ecco perché, per capire il GPS, ci voleva la relatività generale. Già. E quando Eddington, nel 1919, riuscì a vedere sperimentalmente la deviazione della luce ad opera della gravità del sole, diventai improvvisamente famoso. I giornali ricordavano scritte del tipo luci distorte del cielo, e io diventai una star, a causa della deviazione della luce ad opera di una stella. Che battusona, eh? Lei ha veramente innovato la fisica del Novecento, ma so che non era soddisfatto. Già. Non ho mai digerito la fisica quantistica, con la sua indeterminazione di fondo. Ho sempre pensato che l'approccio probabilistico dovesse riflettere una ignoranza risolvibile in qualche maniera, ma sembra che la fisica quantistica sia intrinsecamente inconoscibile. Speravo di aver trovato lo sbaglio di fondo quando, con Podolsky e Rosen, pubblichai un articolo che mostrava che, secondo la fisica quantistica, due oggetti entangled potevano in qualche maniera comunicare istantaneamente tra loro e il loro stato, indipendentemente dalla distanza. In barba, all'attività della relatività. E chi vinse? Eh, vinse la fisica quantistica. Sembra che questa fisica sia intrinsecamente una locale, anche se questo non vuol dire che si può costruire un teletrasporto tipo Star Trek. E poi la fisica quantistica ha permesso la costruzione delle bombe atomiche. Ma lei è uno degli scoprettori della fisica quantistica. Ma io non mi considero il padre dell'energia atomica. La mia parte in questo campo è stata molto indiretta. Non ho previsto, infatti, che si potesse arrivare a produrre l'energia atomica entro il corso della mia vita. Essa diventò un fatto pratico, grazie alla scoperta accidentale della reazione a catena. E questo non è un fatto che avrei potuto prevedere. La reazione a catena fu scoperta da 8 anni a Berlino. E degli stessi non comprese subito esattamente ciò che aveva scoperto. Fu Lise Meitner quella che fornì la corretta interpretazione. E poi fuggì dalla Germania per affidare l'informazione nelle mani di Niels Bohr. Ma questo già lo sapete, perché avete intervistato anche Lise. E lei, professore, scrisse una lettera a Roosevelt mettendola in guardia sulle potenzialità delle armi atomiche e la possibilità che i nazisti riuscissero a costruirne una. E nella lettera spronava gli Stati Uniti a costruire per primi una bomba atomica. Eh, Hitler non avrebbe avuto nessuno scrupolo a usare una bomba atomica. Ma in fondo anche gli americani mi hanno sganciato i due sul Giappone quando era praticamente già sconfitto. Io sono sempre stato antimideritalista e antifascista. Penso che la peggiore fra le creazioni umane sia quella delle masse armate. Dei regime militari, voglio dire, che odio con tutto il cuore. Disprezzo profondamente chi è felice a marciare in ranghi e nelle formazioni al seguito di una musica. Costui ha ricevuto solo per errore il cervello. Un milorno spinale gli sarebbe stato più che sufficiente. Bisogna sopprimere questa vergogna della civiltà il più rapidamente possibile. L'eroismo comandato, gli stupidi corpo a corpo, il nefasto spirito nazionalista. Come odio tutto questo. Lei ha assolutamente ragione. A questo punto non ci resta che salutarla. Forse è l'ultima volta che la vediamo o posso sperare di rincontrarla. No, sono vecchio e stanco ormai. Penso di avervi già dedicato abbastanza tempo. Intervistate qualcuno di questi giovani brillanti, per esempio Hawking. È vero, l'ha appena raggiunta. Me lo saluti allora intanto. E arrivederci. Arrivederci.